Ciao a tutti e bentornati a Cosmopoliner ed eccoci qui a tirare un po' le somme di questo 2020 a tirare le somme dal punto di vista seriale, badate bene volevo fare una top 10, una classifica delle mie 10 serie preferite dell'anno passato ma non ce l'ho fatta, 10 posizioni erano troppo poche quindi ecco qui la mia top 15, diciamo le 15 serie tv del 2020 per la sottoscritta almeno serie tv che mi hanno saputo rallegrare, aippare, scimmiare utilizzerò pure anche delle parole che esistono sul vocabolario coinvolgere, commuovere e intrattenere quindi veramente ci sarà l'imbarazzo della scelta sappiate che troverete i link delle relative recensioni un po' qua e un po' in descrizione a questo video quindi andate lì, cliccate, guardate robe, insomma avrete l'imbarazzo della scelta l'ho già detto e allora ridiciamolo ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare ovvero iscrivervi al canale youtube di Cosmopoli Nerd cliccando sul tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche sul cellulare che è sempre una cosa importantissima e se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopoli Nerd Everywhere allora followatemi su instagram, mettete mi piace alla mia pagina facebook e condividete questo video in ogni dove bene, ciancio alle bande e sigla e mentre sono ancora in baldanzosa aria festiva non è vero, tuttavia devo giustificare in qualche modo la presenza dell'albero di Natale alla mia destra eccomi qui a raccontarvi il mio 2020 una serie tv alla volta sappiate che l'ordine è totalmente sparso vado così a sentimento tuttavia le 15 serie che ho scelte le ho scelte per un motivo e meno male direte giustamente anche voi direi di partire con probabilmente la più scontata beh, che dire The Mandalorian 2 ovvero la seconda stagione della serie Star Wars su Disney Plus ho fatto una quantità di video veramente live sulla seconda stagione di The Mandalorian cioè consistente ecco, perciò basta spulciare un po' il mio canale YouTube Cosmopoliner e anche la descrizione insomma di questo video per scoprire tutto ciò di cui avrete bisogno in realtà non c'è granché da dire a parte il fatto che l'ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian ha fatto crollare il palazzo in cui abito che poi è ritornato su per magia tuttavia la scimmia che mi è arrivata in un determinato momento non farò spoiler a riguardo ma sapete ovviamente a cosa mi riferisco all'arrivo di un determinato personaggio che io tanto avevo sperato di vedere nell'ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian ho dubitato ho dubitato certo perché mi sembrava troppo bello per essere vero tuttavia qualcosa di troppo bello per essere vero nel 2020 è accaduto ed è accaduto proprio nell'ultima puntata della seconda stagione di The Mandalorian per me la seconda stagione di The Mandalorian è una bomba allucinante sotto tutti i punti di vista e veramente mi sono commossa mi sono commossa lo sapete tuttavia non mi sono commossa durante la seconda stagione di un'altra serie che ho analizzato episodio per episodio prima della seconda stagione di The Mandalorian e sto parlando di The Boys serie originale Amazon Prime Video che mi fa sballare di brutto se tutti pensiamo basta con questi supereroi vediamo un sacco di supereroi da mattina a sera The Boys ci sa dimostrare che di supereroi non ne abbiamo mai abbastanza perché basta cambiare un po' le carte in tavola basta un po' dimostrarci che i supereroi possono essere anche diversi anche molto di più rispetto a ciò a cui siamo abituati per farci cadere dalla sedia e farci venire gli occhi a cuoricino proprio in un nanosecondo voi sapete che io amo tantissimo Homelander ovvero Patriota questo dolce psicopatico che nella seconda stagione è riuscito a darci tantissime soddisfazioni ma se vi piacciono i supereroi narrati in un modo differente vi consiglio assolutamente Doom Patrol serie che potete trovare su Amazon Prime Video di cui è uscita la seconda stagione ho fatto un'analisi di recensione con spoiler e sappiate che secondo me Doom Patrol almeno in Italia non ha abbastanza fan o meglio non ha tutti i fan che si meriterebbe perché se la prima stagione era folle folle sotto tutti i punti di vista il suo essere folle un po' ha avvicinato il pubblico coraggioso e un po' ha allontanato il pubblico che magari preferiva qualcosa di più lineare sappiate che la seconda stagione diventa più lineare ma sempre restando straordinariamente meravigliosa certo c'è il dubbio che tutta questa assurdità della prima stagione il fatto che non ci sia più nella seconda vada a depotenziare la capacità narrativa della serie assolutamente no perché comunque ci regala sempre dei momenti intensi profondi, commoventi, toccanti estremamente emotivi carichi veramente di sentimento ma non sentimento giusto per creare un po' di pato sbecero se non avete mai visto le due stagioni che compongono Doom Patrol per ora mi raccomando avvicinatevi perché questa squadra squinternata di supereroi DC veramente si merita molto molto di più e sono sicura che questo molto molto di più sarete proprio voi a darglielo oi boh quindi mi raccomando su Amazon Prime Video su Amazon Prime Video si trova anche una serie originale AMC quindi non prodotto originale Amazon Prime Video che si intitola Dispatches from Elsewhere che è una serie veramente sui generis che avremmo guardato io, mia mamma il cane del vicino e probabilmente un paio di voi che state guardando questo video adesso una serie super di nicchia ma come sapete spessissimo nelle nicchiette seriali si nascondono dei veri e propri capolavori ero indecisa se scegliere tra Upload serie originale Amazon Prime Video e Dispatches from Elsewhere ma Upload per quanto mi sia piaciuta tantissimo soprattutto il finale, l'ultimo episodio che mi fa ben sperare tantissimo per la seconda stagione Dispatches from Elsewhere è andata a toccare determinate corde all'interno del mio essere che nessuna altra serie almeno quest'anno è riuscita a toccare anche qui è ricca di sentimenti esattamente come Doom Patrol però se Doom Patrol parte da premesse non realistiche per le quali bisogna sospendere l'incredulità dal secondo uno invece Dispatches from Elsewhere riesce ad arricchire la realtà a rendere il realismo un realismo magico immaginifico e ti fa sembrare che alla fin fine tutto sia veramente possibile Dispatches from Elsewhere è una serie che ha tutto a cominciare dal titolo in inglese lungo e abbastanza difficile però veramente ha tutto quello che potete cercare all'interno di un prodotto di intrattenimento il finale cioè proprio la parte finale dell'ultimo episodio non mi è piaciuto perché è un po' metanarrativo e io non adoro insomma tutto ciò che è molto metanarrativo ecco in maniera così smaccatamente metanarrativa tuttavia tutto il resto è straordinario ma Dispatches from Elsewhere non è stata decisamente l'unica meravigliosa scoperta del 2020 cominciamo da altre due splendide novità novità one shot della serie e quello che avete visto ve lo dovrete far bastare perché non arriveranno seconde stagioni parti due eccetera che sono The Last Dance e La Regina degli Scacchi The Last Dance è un fenomenale documentario definirlo documentario sportivo mi sembra riduttivo un documentario too cool un documentario a 360 gradi su Michael Jordan e sui suoi Chicago Bulls allora io ho sempre amato il basket da quando ho cominciato a leggere il manga e guardare l'anime di Slam Dunk e ogni e ogni fa vi farà capire The Last Dance documentario ESPN che potete trovare in Italia su Netflix quanto Michael Jordan sia stato e sia grandioso non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista proprio di fenomeno era un fenomeno di massa cioè è stata una roba incredibile quasi irripetibile per me è stato una sorta di tuffo nell'infanzia quando guardavo in tv le partite dei Chicago Bulls da bambina insomma è stato meraviglioso realizzato benissimo con una scrittura a un sacco di ore e ore e ore di girato mai visto inedito perché appunto una troupe aveva seguito Michael Jordan nella sua ultima stagione ai Chicago Bulls tutte immagini meravigliose che non abbiamo mai visto prima e che se siete fan del basket di Michael Jordan dei documentari sportivi dei documentari in generale o semplicemente dei prodotti di intrattenimento realizzati veramente perfettamente The Last Dance vi piacerà la perfezione esiste? sì la perfezione esiste ce lo dimostra The Last Dance come anche un'altra serie di cui vi parlerò dopo che non è la regina degli scacchi altro one shot fenomenale uscito nel 2020 cioè a me è piaciuta un sacco la regina degli scacchi eh Anya Taylor Joy è meravigliosa sempre ma poi qui in questa miniserie è veramente splendida e dico splendida sotto tutti i punti di vista non solo esteticamente chiaramente essendo anche una grandissima interprete proprio bella una miniserie fantastica che tra l'altro continua ad essere ancora in classifica su Netflix nonostante sia uscita tipo a ottobre quindi veramente un prodotto che è riuscito ad unire tutte le tipologie di pubblico in un unico afflato ecco in un unico afflato di apprezzamento è piaciuta credo a tutti la regina degli scacchi perché ha una narrazione così semplice così lineare e così giusta in grado veramente di appassionare tutti alle vicende del personaggio interpretato da Anya Taylor Joy se non si può parlare di X Factor in una situazione come questa mi chiedo quando si possa parlare di X Factor nell'intrattenimento per me e no beh sicuramente si può parlare di X Factor anche per quanto riguarda l'altra grandissima scoperta mia personalissima e credo di tante altre persone almeno in Italia su Netflix ovvero la prima e la seconda stagione di Cobra Kai ragazzi questo sequel spin off chiamatelo come volete di Karate Kid ambientato negli anni moderni con i personaggi di Karate Kid cresciuti e una nuova generazione di potenziali personaggi iconici introdotti proprio all'interno di Cobra Kai che beltà una serie originale YouTube che dopo aver fatto una brutta fine dopo la seconda stagione è stata presa da Netflix comprata sono state pubblicate mi pare ad agosto le prime due stagioni e la terza stagione questa veramente originale in Netflix è uscita il primo gennaio sulla piattaforma streaming e tra l'altro c'è la recensione con spoiler qua sopra se per caso siete interessati molti forse la considerano un teen drama ma non è solo questo perché si è una storia di formazione ma è una storia di formazione di adolescenti e anche di adulti perché Cobra Kai ci dimostra che neanche quando abbiamo 30 40 50 anni siamo cresciuti e formati ad hoc veramente soprattutto quando siamo molto legati al passato come ci dimostrano i personaggi adulti di Cobra Kai che erano quelli ragazzini in Karate Kid quindi un prodotto low budget che riesce a rivendicare il suo essere low budget anche quando nella terza stagione quella prodotta da Netflix il budget si vede che si alza tuttavia l'essere low budget è parte costituente della sua anima del suo spirito e quindi se non l'avete mai vista davvero ve la consiglio dal profondo del cuore visto che comunque Netflix si sa ha già annunciato una quarta stagione che uscirà quando immagino all'inizio dell'anno prossimo e vedendo come finisce la terza stagione di Cobra Kai io sono qua che mi dico devono trascorrere ancora 12 mesi per l'uscita della quarta stagione ce la farò non credo proprio tuttavia ce la farò a no probabilmente non ce la farò a riuscire a sopportare il fatto che un'altra grandissima scoperta del 2020 la serie originale Netflix I'm not ok with this sia stata cancellata sì cioè io quando ho letto la notizia sono rimasta basita ho controllato se fosse per caso il primo aprile o qualche altra festività in cui si fanno degli scherzi crudeli alla gente a caso no è veramente sì I'm not ok with this è stata cancellata da Netflix e voi direte perché tutto sto dramma perché I'm not ok with this è sì un teen drama ma è una storia di formazione una storia di formazione fighissima in cui la giovanissima e stra fantasticissima Sofia Lillis di IT o meglio il reboot di IT Sharp Object interpreta una ragazzina con superpoteri che deve scoprire i suoi superpoteri e deve soprattutto riuscire a farli convivere con una realtà abbastanza traumatica e che dunque non solo non le va molto a genio non è che riesce molto bene a conciliare col fatto di essere super e noi nella prima stagione scopriamo assieme a lei il fatto che abbia dei superpoteri e senza una seconda stagione non sappiamo come riuscirà a utilizzarli proprio adesso che ne è che comincia ad esserne consapevole tuttavia non me la posso prendere con Netflix perché all'inizio del 2020 c'è stata la seconda stagione di Sex Education Sex Education che io stramo stralobbo wow wow talmente britte che la dovrete guardare sicuramente con una tazza di The Earl Grey in mano e magari anche con uno di quei dolcetti super burrosi inglesi che magari voi potete mangiare fortunelli perché non siete intolleranti al lattosio come la sottoscritta Sex Education con la sua seconda stagione è una conferma è una conferma di ciò che avevamo già visto con la prima stagione che ci era piaciuto tantissimo devo dire che Sex Education riesce in un'impresa veramente impossibile per quanto riguarda la sottoscritta farmi stare simpatici i bulli c'è un bullo in Sex Education che mi diventa personaggio cuoricioso amatissimo e quindi questo praticamente è un piccolo grande miracolo della serialità televisiva e non solo anche questo non l'avete mai vista recuperatela perché una terza stagione arriverà poi ho amato tantissimo anche come Sex Education nella sua seconda stagione riesca a trattare il tema della disabilità con un'intelligenza con un'ironia anche con un'autoironia che è veramente di un livello superiore c'è anche la splendida Gillian Anderson a interpretare la mamma del protagonista come saprete sicuramente splendida Gillian Anderson che io amo da sempre tra l'altro se non avete mai visto la serie The Fall io ve la consiglio tantissimo che non c'entra niente con la serie del 2020 tuttavia ve l'ho già consigliata in qualche almeno in un video e guardatela se non l'avete mai fatto recuperatela strepitosa ecco Gillian Anderson che è il perfetto ponte per parlare di un'altra mia serie strepitosamente preferita del 2020 che è la quarta stagione di The Crown oh yes quarta stagione di The Crown in cui dobbiamo salutare purtroppamente il cast che abbiamo visto insediarsi all'interno della produzione Netflix con la terza stagione quindi ciao Olivia Colman adorata Olivia Colman ciao Elena Boham Carter e ciao a tutti quanti sì perché i personaggi verranno nuovamente interpretati da un nuovo cast per la quinta e poi per la sesta e ultima stagione di The Crown saprete benissimo che ogni due stagioni si cambia tutto si cambiano tutti gli attori scelta coraggiosa che crea un po' di spaesamento a ogni insediamento di cast nuovo che tuttavia ci fa capire come Peter Morgan ovvero il creatore della forse più bella serie Netflix prodotta da Netflix che The Crown intenda rappresentare e mostrarci i membri della famiglia reale britannica non tanto come persone personaggi storici ma più che altro come maschere come rappresentanti di qualcosa di archetipico che non importa che le facce cambino da una stagione all'altra non importa che assomiglino o meno ai personaggi storici che rappresentano si va a un significato più alto a un livello di lettura a un livello di rappresentazione più alta quindi veramente un prodotto nobile sotto tutti i punti di vista altra serie che secondo me rasenta la perfezione originale Netflix è una serie animata ovvero a Gretsuko e si racconta le avventure e disavventure nella vita di una piccola panda minore di nome Gretsuko che lavora in un mondo popolato esclusivamente da animali animali antropomorfi lavora vive la sua vita da giusta e giudiziosa ragazza giapponese con tutti i suoi sbattimenti dell'avere 25 anni e non essere ancora riuscita a trovare un fidanzato insomma la vedrete barcamenarsi all'interno di una società giapponese raccontata in a Gretsuko in maniera veramente impeccabile per quanto sia realizzata per Netflix dalla Sanrio ovvero la casa di produzione di Hello Kitty non è un prodotto esclusivamente destinato a un pubblico femminile vedrete tutto kawaii vedrete tutto puccioso ma sappiate che adatta a tutti i pubblici possibili come ogni serie realizzata straordinariamente bene sapete che io attendo la quarta stagione di a Gretsuko come attendo il Natale no non è vero perché io sono un grinch quindi il Natale non lo attendo però a Gretsuko è meravigliosa e raggiunge nella terza stagione un livello di follia quasi impareggiabile praticamente meraviglioso stupendo incredibile come un livello di follia e di cringe di imbarazzante raggiunge Ragnarok con la sua prima stagione veramente era un progetto su cui io non avrei investito una lira ma che mi ha dato una quantità di soddisfazioni cioè veramente bellissima Ragnarok con tutti i suoi difetti ma sapete anche una serie non perfetta può piacere può essere bella e può essere godibile Ragnarok con l'inserimento della mitologia norrena all'interno della vita più o meno comune di alcuni ragazzini nell'Europa del nord è un prodotto fantastico l'eroe ha iniziato il suo viaggio e attendo con ansia la seconda stagione non so proprio che cosa aspettarmi da Ragnarok ed è ciò che mi fa venire voglia di vederla assolutamente uscitela appena potrete per Dinci Bac così essere stupita e non sapere che cosa aspettarmi è un qualcosa che per quanto riguarda un prodotto di intrattenimento qualunque tipologia di prodotto di intrattenimento mi fa scattare una scimmia un hype che non avete idea come avevo una scimmia e un hype che non avete idea per la terza stagione di Dark sì tra l'altro vorrei farvi notare la mia maglietta maglietta targata pampling oibo visto che sicmundus creatus est la potete trovare su pampling sito di magliette e articoli nerd trovate il link al sito in descrizione a questo video se volete il 20% di sconto su ogni articolo presente sul sito come questa maglietta per ogni vostro acquisto da qui all'eternità usate il mio codice personale ovvero Cosmo e non ve ne pentirete come sicuramente non vi siete pentiti di aver visto Dark dalla prima alla terza e ahimè ultima stagione mamma mia veramente la terza stagione di Dark si conquista la palmetta della serie che mi ha fatto fumare il cervello di più in assoluto perché la terza stagione l'ho binge watchata e non fatelo non binge watchate Dark soprattutto nella sua terza e conclusiva stagione perché altrimenti vi verrà un mal di testa che vi passerà cioè tipo a capodanno dell'anno dopo però che viaggio che emozione che meraviglia ma cioè io ho amato il finale di Dark ho amato tutto Dark e per quanto ci siano cose da dire che ci sta che possano non essere piaciute nel finale di Dark ragazzi ma Darkers Forever proprio cioè proprio una roba devastante mi ha devastato Dark sotto tutti i punti di vista soprattutto dal punto di vista cerebrale quindi c'è meraviglia assoluta e un altro grandissimo finale che abbiamo visto il 30 dicembre 2020 è stato quello di Vikings con la seconda parte della sua ultima stagione ovvero la sesta anche lì per quanto il viaggio sia stato molto più lungo e con insomma risultati alterni mentre comunque Dark con le sue tre stagioni è stata furbescamente in grado di mantenere sempre altissima la qualità Vikings con le sue prime stagioni ci ha regalato un mondo un universo di personaggi indimenticabili poi andando avanti ha cominciato un po' a zoppicare diciamo così però comunque il fatto che sia finita e secondo me non è finita male mi è piaciuto mi dispiace che sia finita ovviamente ma sono contenta che sia finita così un finale altalenante come altalenante è stata Vikings da un po' di anni a questa parte tuttavia alcune storyline si sono chiuse in un modo che a me è piaciuto molto ah ultima ma non ultima anzi è probabilmente la mia serie preferita del 2020 e anche la mia serie preferita di sempre abbiamo avuto modo di vedere su Netflix per quanto non sia una serie originale Netflix bensì una serie AMC Better Call Saul spin off di Breaking Bad dedicata al personaggio di Saul Goodman che è più bella rispetto a Breaking Bad non lo so non voglio scatenare polemiche attraverso questo video tuttavia è la perfezione se The Last Dance è la perfezione dal punto di vista documentaristico di realizzazione visiva narrativa insomma tutto Better Call Saul per me è la serie perfetta per me è la serie che tutte le serie dovrebbero ambire a essere beh non tutte effettivamente ma tutte le serie che vogliono essere perfette per dire Cobra Kai non vuole essere perfetta anche se tuttavia da un punto di vista di scrittura di attenzione per i personaggi si avvicina molto a quella perfezione ambulante che è Better Call Saul nel 2020 abbiamo visto la quinta stagione sta uscendo quattro dicendo quinta è molto bene ce la posso fare e il prossimo anno credo il 2022 se non la fine del 2021 ma credo più che altro all'inizio del 2022 vedremo la sesta stavolta l'ho fatto i giusti la sesta e ultima stagione che si prepara veramente scoppiettante scoppiettante e dilaniante perché io lo so se nella quinta stagione abbiamo capito che i personaggi a cui siamo affezionatissimi ormai che amiamo dal profondo nel nostro cuore stanno per compiere delle robe forti che potrebbero stravolgere le relazioni che hanno tra di loro e anche il rapporto che hanno loro stessi con loro stessi nella sesta stagione ci sarà la resa dei conti e sarà una resa dei conti che io credo amerò e odierò vedere perché sarà la resa dei conti vuol dire che non ci sarà più niente non ci saranno più nuovi episodi dopo la sesta stagione di Better Call Saul e quando ami qualcosa così tanto quando lo ritieni così perfetto dover assistere alla fine è una roba devastante ecco quindi queste sono le mie 15 serie tv preferite le mie 15 serie tv del 2020 ditemi tra quelle di cui vi ho parlato in questo video c'è per caso anche la vostra serie del 2020 quale vi è piaciuta di più tra queste 15 che vi ho raccontato quale non avete visto ma che adesso vi è venuta voglia di recuperare e poi diciamocelo vorrete iniziare la visione di Aggrezzuco anche se siete dei maschietti sapete che lo dovete fare no obbligatoriamente parola di Cosmo Poli Nerd se questo video vi è piaciuto come è piaciuto a Il Cuoca che ve lo presento in questo video ma sarà probabilmente il mio animale custode di tutto il 2021 e immagino lo vedrete spensissimo perciò vi presento Maximilian Il Cuoca sei bellissimo ma sai che sei bellissimo 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 allora dovete fare sempre le solite cose ovvero mettere mi piace lasciare un commento iscrivervi al canale YouTube di Cosmo Poli Nerd attivando anche la campanella da notifiche su in alto che è sempre una cosa importantissima altrimenti sorridete anche voi come un cuoca buona notifiche su in alto Grazie.